Ehi ragazzi, c'è Kenneck con la macchina nuova! Chiama la nuova! Ma è un rottame! State scherzando, è fantastica! Ehi ragazzi, che ve ne pare? Tosta, eh? Ma davvero pensi di poter girare con questa scatoletta di sardine? Ma che cavolo dici? E dai, se la rimettiamo a posto, questa può diventare la nostra nuova base operativa. Sì, forte! Così mi sarà più semplice. Agganciare le ragazze, eh? Sì! Con un gaccio da macellaio, eh? Ehi, però un bel colore, cos'è? Color merda secca, spiritoso! Metto a posto il motore, do una mano di vernice e questa macchina correrà più veloce di un bolide! Ragazzi, Kenneck ha ragione. Questa macchina può diventare un gioiello della meccanica! Grazie! 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 Grazie!